La nostra vita è regola di attratti, io non so se ci credi che sono passati dieci anni, io non ho voglia di sentirli, sulla tua pelle io non vedo smagliature, vorrei che avvisi che comunque sei perfetta, senza maglietta, mostriamo alla comunità scientifica cosa vuol dire, fare la fusione fredda se non hai fretta, vediamo quanta forza che si libera, se si espande, se ci limita, e litighiamo alla prima galleria, per la tua collezione di orecchini in casa mia, e i nostri scambi di calore fanno aumentare l'entropia e aumenta la tua collezione di orecchini in casa mia, io lo so che non mi sopporti, prendi le tue case e sbatti tutto e tanto poi ritorni, riparerò la tua voce rotta con un po' di scotch e poi faremo più nel casino dei tennisti, negli scambi del Rolandia Ross, negli scambi del Rolandia Ross e che vedi a tennisti, negli scambi del don, a la tua collezione di orecchini in casa mia, e i nostri scambi del Grazie a tutti.